Siamo nel cuore dell'azienda Lombardo, un cuore pulsante che produce biciclette ma produce anche passione e perché no, la storia dell'imprenditoria sana di Buseto Palazzolo. Per dovere di ospitalità intanto salutiamo la moglie, la signora Giacoma e il signor Gaspare che è il fondatore di questa meravigliosa azienda. Allora, signor Gaspare, stiamo vivendo un momento importante perché Buseto Palazzolo è la capitale della bicicletta oggi e della passione. Lei è stato il grandissimo fondatore ed è tuttora considerato un imprenditore determinante per la fortuna e per l'occupazione, e mi creda non è poco, di questo territorio. E allora, sto parlando con un cavaliere della Repubblica, ci parli del suo modo di fare imprenditoria, dei suoi riconoscimenti, dei suoi successi e della sua passione. Io vengo da un passato perché sono del 1934 e allora i tempi erano brutti, però con tanta forza e con tanta volontà e con tanta passione perché ho dato il cuore per questa azienda da piccolo, da 12 anni ho incominciato, a avere questa idea, diciamo, di producere biciclette. Infatti che ho incominciato con 100 biciclette in un anno, adesso siamo arrivati a 500 biciclette al giorno e non mi sembrano poche. No, anzi sono molte. Senti, ma io le volevo chiedere un'altra cosa. Al di là dei meriti, no, del suo fare imprenditoria, quello che oggi è importante in un territorio, come dicevo, come Buseto Palazzolo, ma come la Sicilia, è creare posti di lavoro, benessere per la famiglia. Lei sta legando la passione per la bicicletta, per lo sport, all'occupazione e al reddito. Ne è orgoglioso? Certo che sono orgoglioso. Sono orgoglioso io e anche tutti i cittadini sono orgogliosi perché avere una persona come me, non per quanto, ma come me per dire che ho dato tanto lavoro, tanta passione per tutti i cittadini di Buseto, penso che sia stata una cosa perfetta. Senta, oggi è importante anche un altro aspetto, quello che state organizzando per la quarta volta a Buseto, questo grandissimo evento, questo gran fondo che mi permetta tutta l'Italia conosce e tutta l'Italia ne parla. Lei è stato capace di fare biciclette, ma non solo di fare biciclette, ma di trasportare questa passione verso i suoi figli e oggi ne stiamo vivendo i risultati. E allora, Buseto Palizzolo è la capitale oggi del ciclismo siciliano e non solo. Anche questo è un motivo di orgoglio. Stanno venendo tanti campioni, ci saranno tanti campioni, ma ci saranno soprattutto tanti ragazzi che vengono, per certi versi anche nella vostra città, a darvi omaggio per quel bene che avete creato. Come si sente il Cavaliere della Repubblica, il signor Gaspare Lombardo? Mi sento felice, mi sento contento perché finalmente ho realizzato quello che pensavo 60 anni fa, 70 anni fa, perché ripeto, ho incominciato molti anni fa e il mio punto di vista era di raggiungere quello che adesso abbiamo raggiunto. E sono orgoglioso, sono contento di avere tanti amici e tante persone che parlano di me, diciamo. E allora concludiamo con la signora Giacoma, che è molto timida per la verità, ma noi cercheremo di farla parlare. Allora, signora Giacoma, accanto ai grandi uomini ci stanno grandi donne, quindi lei sicuramente è stata una grande donna perché è stata di ausilio a suo marito a formare. Mi ha collaborato tanto, è questo, ho lavorato pure io al negozio naturalmente. Mi ha dato una mano. E allora, felici di questo risultato. Sì, sono ben vissima. Sì, sì.